Le Fiamme Gialle scoprono una discarica abusiva nel rione delle Cascinette. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e del reparto operativo Aeronavalle di Como infatti hanno concluso una complessa attività di polizia ambientale che ha permesso di individuare a Cannegrate un sito all'interno della quale erano presenti numerosi veicoli e rottami di autovetture a contatto diretto col terreno non impermeabilizzato oltre a fabbricati edificati in assenza di autorizzazione nei quali era stata arrestita un auto-officino. Le Fiamme Gialle avvalendosi peraltro del supporto dei tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Lombardia e della Polizia locale di Cannegrate hanno proceduto al sequestro dell'area e al suo affidamento in giudiziale custodia al proprietario segnalato lo stesso alla Procura della Repubblica di Milano.